Oggi siamo qua a fare questa iniziativa di sciopero per la situazione che si è venuta a creare all'interno dell'interporto di Rivalta Scrivia. L'azienda ha denunciato degli esuberi e la riduzione e la contrazione delle condizioni lavorative per i lavoratori dell'interporto che lavorano in appalto attualmente per alcune cooperative e che transiteranno ad una SRL creata ad Uopo per far convogliare i lavoratori graditi all'azienda e eventualmente lasciare fuori quelli che invece risulteranno essere in esubero. Lo scopo della manifestazione di oggi è quello di sancire i termini con cui questo passaggio avverrà e garantire innanzitutto l'occupazione di tutti i lavoratori che sono attualmente impiegati all'interporto e quelli che hanno concluso il periodo di cassa integrazione e che dovranno rientrare a lavorare e soprattutto garantire che le condizioni di lavoro siano in linea con il contratto collettivo nazionale non concedendo alcuna deroga a contratti aziendali così come è usanza adesso e la Fiat insegna portare avanti in Italia contratti aziendali che ovviamente non stabiliscono dei paletti a quelle che sono le condizioni minime a cui i lavoratori vengono impiegati per cui noi siamo qua per ribadire che vogliamo l'applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di categoria di riferimento per i lavoratori che lavorano nei magazzini e che ovviamente venga garantita l'occupazione.